Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione, per riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore. Salve! In questa lezione tratteremo i seguenti argomenti. La nomenclatura e la classificazione delle diverse linee dell'abbigliamento femminile. Gli obiettivi che si propone di raggiungere questa lezione sono quelli di analizzare le diverse linee dell'abbigliamento femminile e studiarne le caratteristiche specifiche di ognuna. È importante saper distinguere le linee dell'abbigliamento femminile, le strutture base, le strutture tecniche e le strutture stilistiche prima di poter sviluppare e analizzare il nostro soggetto in esame. Cominceremo ora con una classificazione, con una nomenclatura delle diverse linee dell'abbigliamento e vedere come operare su ognuna, partendo da un modello base, in modo tale da fare le diverse modifiche, le diverse trasformazioni per poter ottenere la linea desiderata. Cominceremo col parlare della linea aderente. La linea aderente è la linea tipica degli inizi del Novecento, che spesse volte tendevano a fasciare persino anche le gambe, oggi viene rivisitata in diversi modelli, soprattutto dalla moda giovane, con una funzionalità più pratica e più comoda. A tale scopo i modelli sono spesso realizzati in tessuti elasticizzati o con magline e licre particolari. Partendo sempre dalla figura base di un modello, in questo caso abbiamo un modello in taglia 40, che fa riferimento al modello abito davanti, sempre lavorato a un quarto, quindi abbiamo un quarto della circonferenza seno, un quarto della circonferenza vita e un quarto della circonferenza bacino. Avendo questo modello base, noi andiamo ad operare su quello che è il nostro fine, cioè ottenere la linea aderente. Ecco, questo è un modello base di linea semiaderente, quindi una vestibilità semiaderente, diciamo che veste comodamente il corpo. Quindi da questa base noi abbiamo il modello in piano, in questo caso aperto, se vogliamo strutturare tagli simmetrici o asimmetrici, andiamo noi a creare questa situazione. Lavorando in scala abbiamo una situazione di questo tipo. Andiamo a creare questi tagli sul seno, questo il nostro giro manica, possiamo eliminare del tutto la pence sull'addome e stringere il fianco fino a questo punto. Di conseguenza poi abbiamo la circonferenza bacino e l'orlo lo accorciamo almeno di 3 cm circa, in modo tale da avere una situazione tipo di questo genere. Questo il nostro centro davanti della figura e lavoreremo in maniera simmetrica anche sull'altro modello per ottenere il nostro abito. Punto vita, punto bacino, punto seno. In questo modo noi abbiamo eliminato la pence del davanti, abbiamo lasciato solo la pence del seno e abbiamo stretto la linea lungo i fianchi per ottenere una linea più aderente e più sagomata. Altra linea molto importante è la linea a impero. Questa linea risale addirittura al periodo napoleonico e quindi intorno ai primi dell'800. La figura veniva resa molto aderente sotto il seno, c'era un taglio sotto il seno e quindi sopra la vita diciamo, in modo tale da essere 6-8 cm sotto il punto seno. Questa linea è tornata molto in voga poi negli anni 60 ed è stata ripresentata in più modelli, in diversi modelli fino ai giorni nostri. Questa linea impero, operando sempre quindi dal nostro modello base in taglia 40, verrà trasformata in questo modo, avendo sempre quindi noi lo scollo del davanti, chiudiamo questa pence, lasciamo solo la pence sotto il seno, quindi abbiamo questa tipologia di situazione, questo è il nostro giro, questo il fianco che viene quindi chiuso così e poi da qui parte il taglio che va sotto il seno, un taglio che all'incirca deve essere fatto a 6-8 cm circa dal punto seno, e poi il fianco che cade morbido, svasato lungo tutta la figura, fino all'orlo del capo. Vedete questa? È la nostra tipologia di linea impero. Qui abbiamo il punto vita, qui abbiamo il bacino e qui abbiamo il punto seno. A 6-8 cm circa tagliamo il cartamodello, lasciamo solo la pence sotto il punto seno e abbiamo una situazione tipo di questo modello. La stessa identica trasformazione viene sempre fatta anche per il dietro, quindi così il cartamodello davanti, così si presenterà il cartamodello dietro. Questa è la tipologia a impero, in seguito abbiamo, come vedete dalle immagini, la linea trapezio. La linea trapezio venne lanciata da Dior intorno agli anni 50 e in seguito più volte ripresa nella seconda metà del secolo anche da Civenci e da Manuel Ungaro. Le spalle si presentano strette e non viene segnato il punto vita, per una linea che cade svasata sino all'orlo. Quindi noi abbiamo una tipologia di figura proprio ad A, in cui il modello si presenta più stretto, più piccolo nella parte superiore del corpo e più largo, più svasato nella parte inferiore del corpo. Partendo dal nostro modello base, noi opereremo in questo modo. Possiamo benissimo lasciare comunque la pence della spalla e del seno, questo il nostro scollo, abbiamo tutto il centro davanti, punto vita, punto bacino, punto seno. Andiamo ad operare solo sulla parte inferiore del corpo, per cui abbiamo una tipologia di questo tipo. Ecco qua, questa è la linea trapezio in cui vedete comunque la parte superiore del corpo si presenta più piccola rispetto alla parte inferiore del corpo, che va a svasarsi, che va a svasare e diciamo rende più importante la parte inferiore del corpo, una linea proprio ad A, a trapezio. Un'altra linea assai particolare, molto ricercata dagli stilisti, è la linea ad Anfora. La linea ad Anfora è tipica di molti stili italiani degli anni 50, ricordiamo ad esempio anche Jacques Fah, per esempio, lo stilista degli anni 40 e degli anni 50, che ha vestito diverse star dello star system hollywoodiano, ed è una linea che presenta, come vedete dall'immagine, una parte inferiore del capo, e cioè dalla vita in giù, che si presenta più importante, che viene a essere la parte determinante del capo. La zona del bacino è messa in evidenza, aumentando appunto la differenza tra vita e bacino, tra la circonferenza vita e la circonferenza bacino. Questo modello, il modello ad Anfora, fa riferimento, più nel dettaglio, a questo tipo di trasformazione, partendo sempre dal nostro modello base in taglia 40, vedete, noi possiamo sempre operare su questa diversa tipologia di pants, di ripresa, per cui se noi annulliamo la parte laterale del seno, chiudendo questa, apriamo il modello della spalla. In questo caso noi possiamo fare lo stesso anche con la vita e con la circonferenza vita e la circonferenza bacino. Quindi noi, entrando nello specifico, abbiamo una situazione di questo tipo. Manteniamo la proporzione sulla parte superiore del corpo, vedete, qua c'è il giro manica, qua c'è il fianco e qua abbiamo il punto vita. Possiamo anche mantenere quest'altra pants che va dal seno alla vita in modo tale da avere inalterata la parte superiore del corpo, mentre invece nella parte inferiore del corpo andremo ad eliminare quasi la pants del fianco accentuando, possiamo anche accentuare, ecco, la ripresa della vita e farne due, ad esempio, e ottenere una situazione tipo che mette ancor più in evidenza la zona del fianco, che poi va a stringersi nuovamente sulla zona dell'orlo. Bacino, vita, circonferenza seno. Questa è la nostra linea d'anfora dove la parte del bacino è la parte fondamentale che viene messa più in evidenza. Quindi abbiamo questo taglio in vita e la parte del bacino, che poi va a stringersi sull'orlo, che prende importanza e acquisisce proprio maggiore evidenza, diventa la parte determinante dell'intero capo. Altra linea molto importante è la linea a campana. Linea a campana che, come vedete dalla figura, accarezza il corpo nella parte superiore, modellandolo, mentre invece si allunga, si allarga, voglio dire, scusatemi, sull'orlo, in una svasatura che conferisce proprio questa conformazione a campana. La linea a campana la si risconta già negli abiti di fine 800 e inizi 900. Spesse volte verrà ripresa, soprattutto negli abiti da cerimonia, negli abiti da sposa, e presenta appunto questa eccessiva larghezza che va dalla vita in giù. Entrando più nel dettaglio, partendo sempre dal nostro modello base, abbiamo una situazione di questo tipo. Lavorando sempre analogamente sulla parte superiore del corpo, che rimane dunque inalterata, possiamo creare, ecco, magari annullare la pence della spalla, come detto poc'anzi, e accentuare la pence laterale del seno. Vedete? Ecco, abbiamo una situazione di questo tipo. Qui abbiamo il taglio in vita, e dalla vita parte questa eccessiva ampiezza che va a determinare proprio il taglio a campana. Modellata anche la vita con la pence sulla vita, abbiamo la circonferenza vita, la circonferenza bacino, e la circonferenza del seno. Vedete come la parte che va dalla vita al bacino si allarga, acquisendo proprio questa forma, questa tipologia a campana. Successivamente alla linea a campana abbiamo la linea Redingot. La linea Redingot ha una denominazione, diciamo, ha un valore storico particolare, poiché nasce essenzialmente come linea maschile nel periodo del Settecento. Alla corte di Luigi XVI vediamo come gli abiti tipici dello stile maschile presentano questa struttura Redingot che va a tagliare tutta la lunghezza vita davanti e poi questo taglio si allarga sulla zona inferiore del corpo. Come vedete dalla figura, la vita è il punto focale, segnato da tagli o da cinture e può essere tranquillamente fatto sia su un modello intero che su un modello a due pezzi. Quindi questa linea Redingot che successivamente viene ripresa negli anni 50 da Christian Dior e viene utilizzata tuttora per i taillers e principalmente per diversi modelli di cappotti o di soprabiti. Come operare sulle linee Redingot? Per operare sulle linee Redingot noi abbiamo sempre il nostro modello di abito, vedete, in taglia 40, e possiamo lavorare sempre su abito intero o su due pezzi. Questo non vincola il nostro modus operandi. In questo caso abbiamo un abito, lavoriamo sempre, ecco, trasformiamo ad esempio questo collo da scollo a girocollo, facciamo un collo a V, ecco, questo non altera la forma a Redingot. Abbiamo questo taglio che parte dalla spalla, lungo tutta la circonferenza della vita, qua c'è il punto vita, e va fino alla parte inferiore del corpo, lungo tutta la lunghezza. Questo il nostro centro davanti, questa la nostra manica, il nostro giro manica, e qui noi andiamo ad aumentare la larghezza. Eccola qua. La linea Redingot si presenta con una circonferenza vita ben segnata, e una circonferenza bacino, una circonferenza bacino, scusatemi, che si allunga fino all'orlo. La parte superiore del corpo rimane inalterata, lavoriamo solo sulla base inferiore del corpo, aumentando questi centimetri, e talvolta possiamo fare lo stesso anche su un lato della PENSE, e su un altro lato della PENSE, in modo tale così che questo sarà il nostro centro davanti, vedete, tutto per intero, allargato fino a qua, così, e la stessa cosa avremo sull'altro lato del davanti, che presenta dunque questa situazione di larghezza. Si allarga fino a qui, e poi prende questa forma tipica della linea Redingot. Questo il nostro cartamodello per la linea Redingot. Trattiamo adesso la linea a palloncino. La linea a palloncino di gran moda durante gli anni Sessanta, come vedete dalla immagine, viene ripresa recentemente da molti stilisti, soprattutto per le proposte della moda giovanile. La linea a palloncino presenta l'orlo al ginocchio, a forma proprio di palloncino, spesse volte viene anche irrigidito, e quindi abbiamo questa goffratura, questa abbondanza, questa arricciatura nella parte inferiore del corpo, proprio sull'orlo, che si rigonfia su se stessa e crea questa linea a palloncino. Questo è un modello che, al di là del discorso modellistico, va proprio visto in fase di costruzione, in fase di confezione del capo. Abbiamo la zona superiore del corpo, dunque che rimane inalterata, creiamo una pence di questo tipo e annulliamo, ad esempio, la pence della spalla. togliendo questa pence, abbiamo la pence laterale, abbiamo un taglio in vita, abbiamo tolto anche la pence lungo la vita e da questo punto in poi, dalla vita, noi abbiamo una larghezza molto ampia, svasata, che poi, in fase di confezione, andremo ad arricciare e quindi creeremo questa situazione di questo tipo. Se questo è il nostro punto vita, risulterà, alla fine, arricciato lungo l'orlo e quindi creerà questa struttura tipo a palloncino, poiché tutta questa lunghezza verrà in seguito arricciata, molto spesso attaccata alla fodera e creerà questa struttura tipo a palloncino. Molti stilisti creano questa struttura di abito anche, per esempio, sulla parte superiore del corpo e quindi possiamo creare un'arricciatura, una morbidezza a palloncino che copre tutta la parte superiore del corpo, delle spalle e della circonferenza seno, mantenendo sempre questa linea a palloncino. Altra linea particolarmente ricercata, particolarmente in voga, è la linea a sigaretta. Linea a sigaretta che per anni è stata la linea più amata da Coco Chanel nei suoi tagliere per la semplicità e la pulizia del taglio. Come vedete dall'immagine, la linea a sigaretta presenta le spalle molto piccole e la linea cade dritta lungo tutto l'abito sino all'orlo, quindi presenta una struttura, per così dire, a sacco, una struttura che ha la circonferenza seno, la circonferenza spalle, identica per tutta la lunghezza del capo. In questo caso, in particolare, partendo sempre dal nostro modello base, noi possiamo ottenere una situazione di questo tipo. lavoriamo, ad esempio, ecco, con uno scollo a barca, in questo caso, un po' più ampio, lungo la spalla. Questa è la nostra pants della spalla. Ecco, le spalle si presentano così com'è la loro lunghezza. annulliamo la ripresa della vita e l'abito cade tutto lungo, dritto per la sua intera lunghezza sino all'orlo. Questo è il nostro modello, vedete, a sigaretta, dove circonferenza vita, circonferenza bacino e circonferenza seno non presentano grosse differenze, poiché è tutta un'unica misura per tutta la lunghezza dell'abito. Questo si può fare con un tailleur, si può fare giacca e pantalone, giacca e gonna, comunque abbiamo sempre questa linea a sacco, questa linea a sigaretta, che presenta una struttura, tra virgolette, tronca, per così dire, una struttura proprio a sigaretta, che cade retta per tutta la lunghezza dell'abito. Altra linea molto importante è la linea a triangolo o la linea a V, cosiddetta. Come vedete dall'immagine, la linea fa riferimento con le spalle molto più accentuate a quella che è stata la linea tipica degli abiti anni Ottanta, particolarmente apprezzata da Mugler o da Giorgio Armani. Le spalle sono alte e larghe e hanno la struttura determinante di tutto l'abito, cioè la parte superiore del corpo, la parte delle spalle, è quella che presenta maggiore importanza. Le spalle sono dunque alte e larghe, spesse volte vengono anche imbottite, per una linea che si stringe poi lungo il punto vita e lungo l'orlo. Quindi abbiamo una struttura proprio a V, a triangolo, rovesciato, per cui la parte superiore del corpo si presenta più larga rispetto alla parte inferiore. Lavorando sempre sul nostro modello base, noi possiamo ottenere una soluzione di questo tipo. Accentuiamo questo modello a V con una scollatura proprio a V. Qui abbiamo la pence della spalla che magari accentuiamo, vedete, allarghiamo le spalle, abbiamo questo lavoro sul giro manica, segniamo maggiormente la vita con le pence, magari con una rientranza dal fianco, e poi abbiamo la circonferenza bacino che si stringe lungo la lunghezza dell'orlo. Questo è il nostro centro davanti, circonferenza bacino, circonferenza vita, circonferenza seno. Noi abbiamo ottenuto una situazione di questo tipo, con le spalle molto pronunciate, una vita ben segnata e una circonferenza bacino che si stringe lungo l'orlo. Questo è il nostro capo che presenta appunto questa tipologia a V, come vedete, la parte superiore del corpo molto più larga rispetto alla parte inferiore del corpo. Nell'immagine che seguo invece abbiamo una linea a ruota, linea a ruota che nasce dai mantelli di inizio 800. Durante tutti gli anni 60 e 70 vengono realizzati diversi modelli sia di gonne che di mantelle che ricordano questa linea proprio a ruoto, che ricordano questa foggia degli inizi 800 e che viene rivalutata anche negli anni, nella fine anni 90, da stilisti come Gerardini e Rocco Barocco. Nell'immagine che segue vedete questa ampiezza proprio della parte inferiore del corpo, per cui tutto il modello acquisisce una forma tipica a ruota, per così dire, che prende tutta la circonferenza sottostante dell'abito dell'orlo e si allarga, viene proprio tagliato a livello di confezione a ruota. In questo modello tipico abbiamo invece una situazione di questo tipo. La parte superiore del corpo può benissimo essere a girocollo e per tutta la lunghezza sua del capo abbiamo questo taglio che viene fatto così a ruota, vedete, senza pens, senza trasformazioni particolari, lo facciamo più corto in questo caso. Con il taglio a ruota eliminiamo qualunque tipo di pens interna, eliminiamo la morbidezza, il segno, voglio dire, della circonferenza bacino e della circonferenza vita, così come della circonferenza seno, abbiamo un unico taglio a ruota che parte dal girocollo, in questo caso, per tutta la lunghezza dell'abito, sia sulla parte frontale che sulla parte laterale. quindi questo modello a ruota che presenta proprio questa eccessiva ampiezza e che ricorda la foggia dei mantelli di inizio 800 utilizzata soprattutto per diversi modelli di gonne dal taglio un po' agitana, per così dire. In conclusione diremo che in questa lezione abbiamo analizzato e studiato le diverse linee dell'abbigliamento femminile individuandone i canoni e le caratteristiche specifiche di ognuna. Grazie, arrivederci.